Amici e amiche di RBA, bentornati a Bra per CIS 2023, 15-18 settembre, un racconto, quello della nostra emittente, che vi permetterà di scoprire storie intorno alla produzione casearia, consapevole, intorno alla sostenibilità, intorno a storie di cambiamento. E in particolare qui a Caffa Belloni, in questa trasmissione che potete ascoltare anche in replica, partire dalle 23, ebbene in questa trasmissione ho deciso di potervi, di volervi offrire delle storie di cambiamento e storie di vite che sono cambiate attraverso cosa? Attraverso la riscoperta della produzione casearia, dell'allevamento, del territorio e della cura del territorio. Ed è per questo che ci spostiamo in Sicilia, abbiamo con noi un piacere ospitarla qui nel nostro bistro, grazie, invidiata, ciao, grazie, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Come stai, come va? Bene? Bene, un po' di freddo, non siamo abituati ad altre temperature. Allora, grazie arriva dalla Sicilia, siamo in provincia di Palermo, vero? Sì. Allora, in particolare, ho letto un po' la tua storia, provincia di Palermo, ma in particolare il Parco delle Madonie, dove si trova più o meno, in quale zona della provincia di Palermo? Il Parco delle Madonie è una zona protetta, la regione Sicilia, nel nord dell'isola, diciamo tra Cefalu e Lettina, è proprio una zona abbastanza vasta. Meraviglioso, quindi una storia di un territorio che si riconosce anche, perché no, attraverso i suoi prodotti come il formaggio, come l'allevamento. Grazie alla tua storia come produttrice, come allevatrice, come divulgatrice anche del discorso legato all'amore del territorio e ai prodotti, ai suoi prodotti. Hai bevi un'azienda di famiglia o sei partita proprio da zero per la tua attività? Raccontaci. Allora, io mi definisco un po' folle, un po' matta. Ma noi amiamo la follia, elogiamola, elogiamola. Altrimenti questi lavori non si possono fare e queste attività non si possono leggere. La mia è una storia appunto di una ragazza che lascia l'attività professionale, facevo l'agronomo in uno studio e decide di dedicarsi totalmente all'attività aziendale, messa su da me. Io non ho una storia di famiglia, ma ho la grande passione da sempre per il territorio, per voler rimanere tra l'altro in quel territorio, un territorio di montagna, un territorio molto eterogeneo e splendido, dove i boschi si alternano ai seminativi. Ed è una Sicilia un po' diversa da visitare e quindi la voglia di voler rimanere in quel territorio è lavorare con la terra, con l'agricoltura, quindi con l'allevamento. Ho sempre avuto una grande passione per le vacche, quindi mi sono messa ad allevare vacche. Da perfetta, ignorante, ho iniziato a lavorare i formaggi. Da zero proprio. Da zero, vi assicuro che buona volontà e impegno, diciamo che poi alla fine ce la fai e subito mi sono avvicinata al mondo di Slow Food, immediatamente, quindi partendo con la voglia di fare un prodotto poca quantità ma di grande qualità. Come ti sei avvicinata a Slow Food? Visto che eri una principiante, non avevi una storia pregressa di produttrice, come è nato questo rapporto e come hai trovato la fiducia in Slow Food? So che c'è un formaggio in particolare che produci, che è tratto un presidio Slow Food, ma ne parleremo, arriveremo lì a raccontarlo. Ma prima di tutto a me interessa come è nato questo rapporto e come è cresciuto, visto che eri una principiante, insomma non avevi una storia pregressa di produttrice. È nato molti anni fa, è nato nel momento in cui i presidi prendevano vita, quindi Slow Food è arrivato in Sicilia, noi siamo stati in una riunione richiamati per poter aderire a questo mondo che a me è sembrato ritrovare altra gente, un mondo a me vicino, una filosofia, era tutto lì. Per non lasciar scarpare quell'occasione era proprio impensabile per il mio modo di fare e per quello che era stato l'approccio con il mondo agricolo e elevatoriale. Sì, come attività non c'è dubbio perché tutti a fine mese dobbiamo tirare le somme, ma per me era una scelta di vita e quindi era l'ideale. Abbiamo parlato di questo formaggio, l'hai citato tu, Grazia, un formaggio che è diventato un presidio Slow Food, di cosa si tratta? La provola delle Madonie che è il nostro formaggio, il formaggio delle Madonie, del caciocavallo delle Madonie, è un formaggio a pasta filata, latte crudo sicuramente, infatti tutti i nostri prodotti sono a latte crudo. È un formaggio che rispecchia pienamente quello che è il territorio delle Madonie e come è già stato detto il latte crudo. Il produrre un formaggio a latte crudo, quindi non termizzare il latte, il valore nutrizionale di quel prodotto rimane lì e rispecchia pienamente ciò che l'animale... Ma è un prodotto che c'era già, un prodotto che tu hai recuperato dalla tradizione, perché è diventato un presidio? E allora il prodotto c'era, il prodotto era il prodotto tradizionale, ma i presidi nascono da delle realtà tradizionali che purtroppo magari vanno a finire, a perdersi e quindi Slow Food ha avuto proprio la missione di recuperarli. Noi abbiamo, in un certo senso, recuperato una vecchia tradizione che non si faceva più ed era la provola con il limone, l'agrume dentro, il limone dentro. Dentro il formaggio? Durante la lavorazione mettiamo il limone dentro, l'agrume, gli aromi essenziali, no, 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 il succo non interagisce con il formaggio, interagiscono gli aromi essenziali dell'agrume che dà profumo e aroma all'intera pasta. Poi tagliandolo in due, confezionandolo, insomma, è un regalo eccellente. Insomma, siamo vicino a mezzogiorno, amici amiche di lei, quindi, ma, come dire, l'olio essenziale evidentemente del limone, le zeste, anche la, come dire, la, come dire, la, la pelle del limone, la buccia. La buccia, sì, l'esterno del limone interagisce con la pasta filata che ha una certa temperatura perché filare è un formaggio. E pensavo, io pensavo fosse, l'idea è nata dal voler, sin dall'inizio, distinguersi perché si capisce bene, tu puoi fare il prodotto più buono del mondo, immetterti sul mercato è una brutta, è una gran fatica. E quindi noi abbiamo sempre iniziato a fare dei prodotti che si distinguessero per attirare il consumatore. E quello è stato, sì, funzionato. Ed era un'antica tradizione, comunque, scoperto. Dai, sì, vedi. Bene, quindi c'è anche la passione di ritrovare vecchie tradizioni che tornano e comunque vengono mantenute vive. Un'ultima considerazione riguarda un premio che ho visto, hai avuto modo, un riconoscimento, mi piace chiamarlo così, Dea Terra. Bellissimo, parliamo del 2017, ma non importa, quello che mi importa è il riconoscimento che immagino rimanga. Dea Terra, quindi uniamo il territorio alla produzione agricola, alla produzione casearia e all'allevamento. Perché questo premio? È un premio che il Ministero dell'Agricoltura da anni dà alle donne che si distinguono nel settore agricolo. E a livello regionale sono stata chiamata ed è stato bello, perché la fatica, la soddisfazione, rimane principalmente per noi che lavoriamo con una passione, insomma, la cosa più bella. Grazie con noi, grazie per essere stato con noi, è stato un piacere poter ascoltare la tua storia, una storia di cambiamento che unisce una terra meravigliosa e il Paco delle Madonie con la produzione di una provola che non conoscevo e che andrò a scoprire. È stato un piacere, ti auguro un buon lavoro, so che hai un convegno tra poco, di cosa si tratta? Sì, sui pascoli, l'argomento di quest'anno, quindi devo correre. Grazie a voi. Grazie.